Ciao a tutti, facciamo un rapido e semplice riassunto di Ugo Foscolo, quindi vediamo la vita, le opere principali, la poetica, il pensiero e poi alcuni approfondimenti su alcune sue opere più importanti a cui dedicherò dei video a parte. Iniziamo col dire che il suo vero nome era Niccolo, però si farà chiamare Ugo in memoria di un suo antenato. Nasce a Zacinto nel 1778. Oggi Zacinto si chiama Zante, all'epoca era un'isola greca che però apparteneva a Venezia. Il padre era veneziano di professione medico, la madre invece era greca. Dopo la morte del padre nel 1792 si trasferì a Venezia e qui iniziò a studiare e ad appassionarsi ai classici, soprattutto greci e latini, ma anche ad alcuni filosofi illuministi, in particolare al russo, e anche alle idee della rivoluzione francese. Fu quindi un grande sostenitore di questi ideali rivoluzionari e poi anche sostenitore di Napoleone, a cui dedicò anche un ode a buona parte liberatore. All'epoca infatti era forte la presenza degli austriaci in Italia, quindi il dominio da parte straniera, mentre Napoleone, entrando con le sue truppe in Italia, si è rappresentato come un vero e proprio liberatore e tanto affascinò Foscolo che si arruolò anche come volontario nell'esercito napoleonico. A questa forte ammirazione però seguì una grande delusione, un forte senso di tradimento dopo il trattato di Campoformio del 1797 in cui Napoleone cedette Venezia all'Austria. A questo punto Foscolo aprì gli occhi e cominciò a vedere Napoleone per quello che era, ovvero un conquistatore e non un liberatore. Così Foscolo lascia Venezia e nel 1798 si trasferisce a Milano, dove conosce altri poeti, altri letterati come Vincenzo Monti e Giuseppe Varini. Nel 1801 muore il fratello Giovanni, morto suicida, probabilmente per debiti di gioco e su questa cosa Foscolo gli dedicherà anche un sonetto molto famoso come il morte del fratello Giovanni. Foscolo poi ebbe una vita amorosa molto intensa, ebbe diverse storie con varie nobile donne e da una di queste, da una donna inglese conosciuta in Francia, avrà anche una figlia floriana che sarà importante perché sarà quella che lo assisterà negli ultimi anni di vita. Ecco, volendo riassumere la vita e il pensiero di Foscolo lo possiamo fare con 4P, ovvero poesia, politica, patria e passioni che saranno i punti salienti della sua poetica, della sua poesia e della sua vita. Andando avanti nel 1812 si trasferisce a Firenze, poi nel 1815 Napoleone cade definitivamente nella battaglia di Waterloo. A quel punto gli austriaci riprendono il controllo in Italia, quindi Foscolo decide di partire in esilio volontario, fuggendo prima in Svizzera e poi a Londra, dove però morirà in povertà e in malattia a soli 49 anni, assistito proprio dalla figlia floriana. Solo successivamente nel 1871 le sue spoglie verranno trasferite nella chiesa di Santa Croce a Firenze, poi la vediamo, ne parla anche nei sepolcri, e il suo corpo giace accanto a grandi personaggi illustri come Michelangelo, Machiavelli e Galileo. Passiamo alle opere principali, iniziamo dall'Ode dedicata a Napoleone del 1797, poi abbiamo probabilmente la sua opera più importante, Le ultime lettere di Jacopo Ortiz, opera iniziata nel 1798 dopo il Trattato di Campoformio e avrà diverse edizioni, tra cui quella definitiva del 1817. L'opera è un romanzo epistolare, infatti è composto da 67 lettere e si ispira fortemente al romanzo di Goethe, I dolori del giovane Werther, anche questo romanzo epistolare. Il protagonista è Jacopo Ortiz, che è una sorta di alter ego di Foscolo. Jacopo Ortiz è un giovane studente veneziano che si rifugia sui colli eugani dopo la delusione per il Trattato di Campoformio, quindi dopo la delusione verso Napoleone. Da qui inizia a inviare una serie di lettere all'amico Lorenzo Alderani, che poi le raccoglierà e le pubblicherà. In queste lettere Jacopo narra un po' le sue riflessioni sulla vita, sulla politica, i viaggi, le passioni, l'amore, la libertà. Quindi in queste lettere vediamo anche il pensiero di fondo di Foscolo. Jacopo ha due grandi amori, barra ideali, perché sono uno la patria e l'altro invece Teresa, ma entrambi questi amori, questi ideali verranno traditi. Il primo, la patria, verrà tradito da Napoleone. Il secondo invece perché Teresa, pur amando Jacopo, sposerà il nobile Edoardo, a cui il padre l'aveva già promessa. E quando Jacopo scopre questa cosa, si suiciderà con un pugnale, proprio a causa di queste sue due grandi delusioni. Poi, tra il 1802 e il 1803, Foscolo scrive due odi, a Luigia Pallavicini caduta da cavallo e all'amica risanata, ma soprattutto scrive dodici sonetti. Quattro però sono quelli più importanti, a Zacinto, in morta del fratello Giovanni, alla sera e alla musa. Ne vediamo due velocemente. Il primo è Azzacinto, famosissimo sonetto che sicuramente studierete, bellissimo, dedicato proprio alla sua terra natia dove è nato. E vi ricordo anche che il sonetto è una poesia composta da due quartine, quindi due strofe da quattro versi e due terzine. Il tema principale qui è quello dell'esilio, infatti si rivolge all'isola, scusandosi quasi di non poterci più ritornare. Egli inoltre si paragona a Ulisse, con il quale condivide uno sfortunato destino, però il suo ancora più sventurato, perché mentre Ulisse riuscì a ritornare alla sua amata Itaca, lui invece non potrà più ritornarci. E anzi, il fato gli ha prescritto una illacrimata sepoltura, cioè una tomba lontana dagli affetti familiari, quindi in terra straniera. E vediamo anche che ci sono diversi riferimenti classici e alla mitologia greca, come Venere, Ulisse, Itaca e lo stesso Omero. L'altro sonetto invece è in morte del fratello Giovanni, che vi ricordo era morto suicida. Anche qui il tema principale è quello dell'esilio, infatti se un giorno non sarà più costretto a fuggire di paese in paese, finalmente potrà andarlo a trovare sulla sua tomba. Il pensiero poi va alla madre, che poverina è sola con un figlio morto e l'altro invece lontano, e conclude con questa sorta di supplica alle straniere genti di rendere il proprio corpo alla madre addolorata, una volta che sarà morto in terra straniera. Un'altra opera molto molto importante è Dei sepolcri, o più semplicemente I sepolcri, scritta nel 1807. L'opera è un carme, cioè un comporimento poetico solenne, detto più semplicemente una lunghissima poesia, infatti ci sono 295 versi in De Gasilla bisciolti. Come dice il titolo stesso, il tema trattato sono i sepolcri, cioè le tombe, e il tutto nasce dall'editto di St. Claude, un editto, una legge fatta da Napoleone in Francia nel 1804, però estesa anche in Italia nel 1806. Questa legge vietava le sepolture all'interno delle città, per motivi igienici, quindi in sostanza spostava i cimiteri fuori dalle mura della città. Inoltre imponeva tombe tutte uguali. Entrambe queste cose però a Foscolo non piacevano. Infatti, lui, pur avendo una visione materialistica, cioè lui non crede nella vita dopo la morte. Il materialismo infatti pensa che tutto sia fatto di materia, quindi non esiste uno spirito o un'anima. Lui però sottolinea l'importanza delle tombe, perché innanzitutto rappresentano un fortissimo legame affettivo tra i vivi e i morti. Come lui stesso dice, sono una corrispondenza di amorosi sensi. Quindi sono un'illusione, ma che servono ai vivi perché in qualche modo ci si illude di poter ancora parlare con il defunto. Ed è importante anche la memoria, qualcosa che sopravvive dopo l'esistenza. Inoltre non accetta nemmeno questo fatto che le tombe siano tutte uguali. Per lui le tombe di personaggi illustri come un Dante, un Michelangelo, un Galileo, hanno un grande valore, oltre che storico, anche educativo, proprio perché spingono a gloriose imprese, a imitare queste grandi gesta. Essendo un carme il linguaggio è elevato, sublime, e lo possiamo dividere in quattro parti. Nei primi 90 versi si sottolinea il valore affettivo dei sepolcri e quindi condanna l'editto di Saint Claude. Dal 91 al 150 si vede la sepoltura come il passaggio dalla barbaria alla civiltà, quindi ciò che ci differenzia in qualche modo dagli animali o dai primitivi. I versi dal 151 al 225 trattano l'importanza delle tombe di personaggi illustri come quelli in Santa Croce a Firenze, che ospitava tombe di Michelangelo, Galileo, e proprio a Santa Croce tra l'altro verranno trasferite le sue spoglie. E infine nei versi dal 226 al 295 tratta il valore della poesia. Questo è importante perché la poesia è vista come eterna, ciò che rende immortali le cose, i personaggi, e quindi ancora più duratura della tomba. Altra opera importante è Le grazie del 1812. Si tratta di un poemetto in stile neoclassico e si compone di tre inni dedicati a Venere, simbolo di bellezza, Vesta, simbolo del focolare domestico, e Pallade, simbolo delle virtù. Infine abbiamo alcune opere teatrali, tra cui tre tragedie, ispirate proprio al modello di Vittorio Alfieri, e queste sono Tieste, Ajace e Ricciarda. Da ricordare soprattutto l'Ajace perché conteneva alcune polemiche verso il dispodismo di Napoleone, per questo fu molto attaccato. Per quanto riguarda la poetica, Foscolo è un caso molto particolare, se vogliamo unico, perché si trova proprio tra neoclassicismo e romanticismo, e gli infatti fonde lo stile che è neoclassico a temi invece propri del romanticismo. Per chi volesse approfondire neoclassicismo e romanticismo, vi rimando a questo video che vi lascio in descrizione. Ma riassumendo velocemente, il neoclassicismo è questa corrente artistica e letteraria che si diffonde verso la seconda metà del Settecento, soprattutto dopo le scoperte archeologiche di Pompei ed Ercolano, e si ispira fortemente alle forme e agli ideali classici, soprattutto quelli di bellezza, ordine e armonia, con molti riferimenti anche alla mitologia greca. In particolare però vi sottolineo l'importanza dell'ideale della bellezza, definita da Foscolo come unico ristoro ai mali, quindi questa bellezza rasserenatrice. Tutte queste forme, ideali classici, riferimenti alla mitologia greca, li ritroviamo soprattutto in alcune opere, come Le Grazie, Le Due Odi che abbiamo visto qui, e anche alcuni sonetti, come il già citato a Zacinto. Invece, per quanto riguarda i temi trattati, Foscolo è un preromantico, infatti anticipa molti di quei temi che saranno propri del romanticismo, come l'esilio, la morte, l'eroismo, l'individualismo, la soggettività, l'amore per la patria e, in generale, le passioni. Questi temi li ritroviamo soprattutto in alcune opere, come Le Ultime Lettere di Jacoportis, I Sepolcri e alcuni sonetti come In morte del fratello Giovanni. Per quanto riguarda il pensiero, invece, Foscolo, soprattutto in età giovanile, fu influenzato dalle idee illuministe. Abbiamo visto ad esempio in particolare il Rousseau, quindi principi come quelli di libertà e di uguaglianza, che erano stati anche ripresi nella rivoluzione francese del 1789, ma anche questo grande impegno politico, vista la situazione italiana, con la dominazione straniere e quindi la speranza poi tradita in Napoleone. Infine il materialismo, quindi questa visione materialistica della realtà. Tutto è fatto di materia, quindi non c'è l'anima, non c'è qualcosa di trascendente e quindi non c'è vita dopo la morte. La morte, semmai per Foscolo, è vista come la fine di tutti i mali, una sorta di speranza di pace eterna. Lo vediamo ad esempio nel sonetto In morte del fratello Giovanni, quando dice prego anche io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta, quindi morte come una speranza di quiete eterna, ma anche in autoritratto, in cui conclude morte sol mi darà fama e riposo, quindi soltanto la morte gli potrà dare quella fama tanto agognata e riposo a tutte le sofferenze. In gioventù quindi la sua vita, lo ripetiamo, fu segnata da ardenti passioni, sia in campo amoroso, ma anche politico, patriottico, cosa che gli causerà diverse sofferenze come ad esempio l'esilio. Con la maturazione, con l'età, però il suo pensiero diventa sempre più pessimista, incarnando sempre di più lo spirito del romanticismo. Infine vi sottolineo ancora una volta il grande valore che per Foscolo ha la poesia, proprio perché è capace di rendere eterne le cose, come ad esempio la bellezza femminile, ma anche le gesta eroiche e dei personaggi illustri, e nelle sue poesie e nei suoi sonetti molto spesso ritroviamo temi autobiografici. E lo vediamo palesemente ad esempio nel sonetto autoritratto, in cui fa una vera e propria descrizione di se stesso, dal punto di vista fisico, il modo di vestire, ma anche dal punto di vista caratteriale, psicologico, con i vizi e le virtù. Concludiamo infine con il linguaggio, che è elevato, solenne, ricercato, e anche molte costruzioni sintattiche che sono tipiche della letteratura classica, verso la quale Foscolo aveva una grande ammirazione.